Buongiorno e bentrovati a questa edizione di Holiday News. Il nuovo anno è stato salutato a Livigno con spettacoli di fuochi artificiali, la fiaccolata dei maestri. E ancora la slitta di Babbo Natale che per tutti questi giorni sarà nelle vie del centro del paese. E' una band di Babbo Natale che ha animato le vie del centro coinvolgendo tantissimi turisti. Allestita anche una flash mob di dance e hip hop. Buongiorno! 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 le organizza la scuola Scifondo 2000 ogni giorno dalle 10 alle 12. Il costo è di 45 euro e comprende il noleggio dei bastoncini. E sempre la scuola di Scifondo 2000 ogni martedì dalle 14 alle 17 organizza la ciaspolata, anche in questo caso itinerari accessibili a tutti. Il costo è di 24 euro e comprende il noleggio delle ciaspole e dei bastoncini. E al giovedì sera tutti a sciare in notturna al campo scuola 23 della scuola Scicentrare, gli orari sono dalle 20 e 30 alle 23 e 30, vale un biglietto extra ski pass. E da mercoledì a venerdì in centro alla Plazza del Comune, frittelle e vin brulee per tutti dalle 17 alle 19 all'angolo delle delizie. È tutto per questa edizione di Holiday News, arrivederci alla prossima da Livigno Best European Resort con un brindisi. Auguri, buon anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.